Parere favorevole del Consiglio di Stato ha la possibilità di accesso al fondo di garanzia per i risparmiatori delle Bad Bank. Arriva dunque il via libera alle procedure arbitrali che consentiranno l'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati che erano state emessi dalle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa, Banca Marche, Banca Etruglia, Cari Ferrara e Carichietti. Il parere, scrive il Consiglio di Stato, è favorevole con varie osservazioni e due condizioni. La prima riguarda la riformulazione della disposizione sui criteri di quantificazione delle prestazioni erogabili, la seconda le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il Consiglio di Stato si è occupato anche del necessario coordinamento tra il regolamento sulla procedura arbitrale con quello connesso oggetto di un distinto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo potrebbe arrivare già nelle prossime ore il closing per l'accessione di Nuova Banca Etruglia e delle altre due Good Bank ad Ubi Banca. La Fabi si prepara al confronto per tutelare i lavoratori di tutte le filiali presenti in Italia, delle aree territoriali, della Direzione Generale di Via Calamandrei e delle aziende collegate. Attendiamo di vedere i piani industriali e progetti, la questione delle sovrapposizioni di filiali, seppure non significativa, sia con Ubi che con Banca Marche che dovrebbe far parte della partita insieme a Carichietti. C'è poi l'argomento centro-direzionale, una direzione di vera eccellenza, detta del sindacato Fabi che potrebbe tornare utile in forme e modalità da vedere a una banca senza presidi territoriali del genere nella gran parte del centro Italia.